Benidiscorso, dietro la segnalazione di diversi utenti, vi abbiamo mostrato in un nostro servizio una cassetta delle lettere a barchi nel comune di Terra Roveresche, saggiamente sigillata da poste italiane perché infestata da uno sciame di vespe, che l'avevano presa comodamente come loro dimora, come inequivocabilmente dimostrava la loro presenza nella fessura della seratura, da dove probabilmente si erano introdotte. Un cartello, prudentemente messo davanti alla fessura che riceve le buste, impediva la loro impostazione a quanti si servivano di questa cassetta per la loro corrispondenza. Oggi, dopo qualche giorno di disagio e con l'intervento delle poste italiane, tutto è tornato alla normalità. Sì, quella buca delle lettere di barchi a posto è stata bonificata, quindi è pienamente funzionante, funzionale e quindi i cittadini hanno visto, ripristinato questo servizio.